Allora, questa è la mia firma per i colori del Genoa, ho passato, devo dire, gli ultimi quattro anni della mia carriera splendidi, il Genoa veramente è una fede, è una fede per i propri tifosi, io mi sono appassionato, ho vissuto dei momenti meravigliosi come il quarto posto nel 1991-92, la successiva semifinale Coppa UEFA, a proposito della Coppa UEFA penso che dopo la vittoria del Mondiale 82 il più bel ricordo per me è stata la vittoria dell'Anfield Road, l'Anfield Road contro il Liverpool è stata una vittoria entusiasmante, uscimmo dal campo applauditi da 20, 30 mila, 40 mila tifosi inglesi e la passione del tifoso genoano, pensate, più di 10 mila, 20 mila tifosi genoani che ci hanno seguito a Liverpool è stato un ricordo indimenticabile, per cui consentitemi di regalare al museo e ai tutti i tifosi genoani questo mio pensiero con grande affetto, veramente. Allora, Belin, Forza Genova! Belin, va bene!